però terzo e quindi noi ci tiriamo via questo e basta questo lo lasciamo così siamo a posto a rileggere alla squadra bravo certo a perché sono gli handicappati il b è perché sono quelli bravi sai perché ti ho sgamato perché hai tirato i rovi in mezzo questi li avevi tirati su dico quelli non erano così